Presi coscienza, mi diedi delle regole a cui giorno dopo giorno mi attengo ancora in modo scrupoloso, mi danno un ritmo e mi permettono di non impazzire. Il momento di riferimento della mia giornata è la consegna del pane e dell'acqua. Lo sportellino a livello del pavimento si apre e una mano introduce un piccolo vassoio con una caraffa d'acqua e una pagnotta. Ogni due settimane anche un secchio d'acqua per lavarsi. Subito dopo segno sul muro che un altro giorno è passato. Il primo anno segnavo una stanghetta per ogni giorno. Ogni sette stanghette tiravo una linea orizzontale per formare una settimana. A ogni inizio di mese ne scrivevo l'iniziale. Dopo il primo anno ho ricominciato segnando un segmento orizzontale sotto ogni giorno di riferimento.